guerra con questo Basta Eurotour. Noi siamo in guerra, una guerra per ridare ai cittadini le chiavi di questo paese, una guerra per la democrazia, una guerra per la libertà. Grazie a voi perché mi dicevano parlare di economia, saranno quattro gatti. Mai visti così tanti gatti. Sì, è vero, c'è un rapporto umano, c'è un rapporto umano che è nato, un'amicizia fra me e Matteo, ma la storia e in generale qualsiasi impresa si cambia con le persone. A quelli che mi dicono, così? Ecco perché era venuto fuori. Allora, a chi mi dice, ma caspita, ma no, ma la lega. Ma cosa vuol dire ma no, ma la lega? C'è il vero e il falso, c'è il giusto e lo sbagliato. Non c'è la lega, il PDL. Io ho parlato con tutti e mi ha ascoltato uno, Matteo Salvini, per cui non c'è lega o non lega. Però scusate, io prima di iniziare a discutere, perché siamo qua per discutere di economia, io sono qua apposta per cercare di iniziare a spiegarvi o a raccontarvi alcune cose che ci sono sul mio libretto, ma soprattutto per qualcuno di voi che sicuramente qualche dubbio lo ha, per cercare di convincere anche voi, perché in realtà non stiamo parlando di formule matematiche, di cose astruse, stiamo parlando di logica di buon senso, solo che è tanto incredibilmente forte questa macchina di propaganda mediatica su cui noi siamo stati immersi in tanti anni che facciamo fatica a capire anche le cose più banali e quindi il mio intento sarà esclusivamente quello di riportare i piedi sulla terra e di ragionare su cose banalissime. Però volevo, se possibile, rivolgere un pensiero per una volta a una persona che non c'è, a una persona che se fosse stata qui avrebbe potuto sicuramente spiegarvi le stesse cose che vi spiego io mille volte meglio, una persona che è morta prima di vedere l'euro e che è stato il primo professore che io incontrai in cattolica entrando da studente, io entravo da studente e lui usciva da professore, è Gianfranco Miglio. Indegnamente, indegnamente, tocca invece a me spiegarvi alcune cose. E quando si parla di moneta uno pensa sempre, ma la moneta cosa vuoi che sia? Sarà mica importante. Io non perdo sicuramente il mestiere perché c'è l'euro, qualcun altro ha l'euro e lavora. La Germania ha il mio stesso euro, va bene. Cosa conta la moneta? Non è importante. Sono abituato, lo uso per pagare, qualche volta non lo uso neanche, uso la carta di credito, chi se ne frega, non è quello sicuramente il problema. Sarà la corruzione, sarà la casta, saranno le tasse, saranno i politici, sarà la spesa pubblica improduttiva, saranno, saranno, saranno tutta una serie di cose che magari effettivamente sono nocive. E perché invece capita che uno a un certo punto si sveglia e dice signori stiamo affondando il buco nello scafo è quello lì e quindi bisogna smettere di parlare di tutto il resto prima di aver turato la falla. Perché anch'io dormivo, anch'io dormivo. Io ho iniziato a lavorare come fattorino qui in Borsa di Milano, mi presentavo fuori sperando che qualcuno mi assumesse, alla fine un pazzo che mi ha preso gratis l'avevo trovato. Adesso se uno della mia età, all'epoca quando ho iniziato a lavorare, 19 anni, si presentasse davanti in Borsa qua a Milano, cosa trova? Un dito medio di marmo, che è un bel simbolo di quello che era una volta una delle industrie più grandi e più importanti di Milano, quella della finanza. Ecco, cos'è cambiato? Qualcosa è cambiato. Non siamo diventati tutti scemi contemporaneamente. Della gente che ha delle imprese che sono aperte da centinaia da anni non è diventata matta di colpo. Non ha disimparato a fare il suo mestiere. Cos'è successo? È possibile che si vada sempre a cercare cose che in tutta evidenza non sono cause del problema. L'altro giorno era una tavolata con imprenditori e a un certo punto mi dico no, qui bisogna venirne fuori da questo sistema. Ho un grande progetto, io ho tutto orecchie perché spero sempre che ci sia qualcuno che mi dica che ho torto. Ho un grande progetto, si comincia dalla corruzione. A quel punto mi hanno cominciato a prudere le mani. Quando ha fatto il giro di tavolo, perché si comincia con la corruzione, è arrivato il mio turno e gli dico scusate voi eravate attivi negli anni Ottanta. Loro sì. Come andavano le cose? benissimo. Anzi, il mio capannone ne avevo uno, in quegli anni lì sono diventati quattro. Abbiamo espanso tutta l'attività, vendavamo in tutto il mondo, andava benissimo e così via. E scusi, com'era la corruzione a quei tempi? Corruzione sapessi, ma lì adesso sì che controllano, non si può fare niente. All'epoca le mazzette proprio precise, si facevano i bonifici. Questo era esaltato ancora. Io lo guardavo così, felice del giro di mazzettone che c'erano. Io a un certo punto, mentre lui parlava e stava lanciandosi in questa curiosa difesa di un periodo gioioso dove si buttavano via le mazzette, io lo guardavo e gli dicevo non ti sarà forse venuto sospetto che la corruzione non c'entra nulla con quello che sta succedendo adesso? Sì, forse hai ragione. Andiamo a cercare le cause, perché la corruzione è una cosa pessima, ma è come gli omicidi. Non è che se io domani elimino gli omicidi che poi dopo quelli che dicono elimino la corruzione, come dire, elimino gli omicidi, voglio vedere come fanno. Ma non è che se io domani elimino gli omicidi la gente comincia a entrare nel nostro negozio, no no. Quindi io quello che vi chiedo adesso è di fare un piccolo viaggio con me, liberando la mente e cercando di non farci condizionare da quello che crediamo di sapere. Io cercherò di essere semplicissimo, però seguitemi. Allora, immaginiamoci due regioni che sono due stati diversi. Per comodità ve li associo a due cose che ci sono, così non siamo troppo astratti. Immaginiamoci la Lombardia e il Veneto. Immaginiamoci la Lombardia e il Veneto che siano due stati indipendenti, simili. Ognuno... No, ma attenzione! So che vi piace l'idea, senza dubbio. Infatti non a caso scelgo questo esempio. Ma serve per far capire una cosa. Perché fino adesso l'errore clamoroso che è stato fatto è stato pensare che uno Stato possa essere indipendente senza il controllo sulla moneta. Chi non ha il controllo della moneta, non ha nessun tipo di indipendenza, potrà fare solo l'esattore. E adesso vi spiego perché. Immaginate una Lombardia e un Veneto, che siano gli unici due stati al mondo, esistenti, indipendenti, dove ognuno fa più o meno le cose che fa quell'altro. Ognuno si coltivano le pesche in Lombardia, si coltivano le pesche in Veneto. Si fanno macchine in Lombardia, si fanno macchine in Veneto. Si fanno panettoni in Lombardia, si fanno panettoni in Veneto. Ogni tanto qualche Veneto va a fare il turista a Milano, ogni tanto qualche Lombardo va a fare il turista a Venezia. Ecco, questo è un mondo in equilibrio dove tutti si vogliono bene, a tutti c'è pace, c'è armonia e ognuno di questi due stati ha una sua moneta. Diciamo che la Lombardia ha lo scudo e diciamo che il Veneto ha il leone, tanto per dare due nomi, e valgono uguale, uno a uno. Quindi 10 pesche in Lombardia costano 10 scudi, 10 pesche in Veneto costano 10 leoni. Cosa c'entrerà la moneta? È una cosa che usiamo per fare la spesa. Adesso magicamente arriviamo con la bacchetta magica e diciamo che lo scudo della Lombardia si rivaluta, si apprezza e diciamo che a questo punto fra il cambio fra lo scudo e il leone, lo scudo Lombardo vale due leoni veneti. Quindi il valore dello scudo Lombardo raddoppia. Il Lombardo è contento inizialmente, è convinto di avere un regalo. Abbiamo la moneta forte, abbiamo la moneta di serie A, mica come quei pezzenti veneti che hanno invece il loro leoncino che vale la metà del nostro scudone. Quindi siamo entrati in serie A, siamo entrati nel mondo delle regioni forti, di quelli che hanno la moneta forte. Che bello, siamo ricchi. E allora cosa succede? Succede che dopo due secondi il Lombardo guarda i suoi 10 scudi che ha nel portafoglio e si rende immediatamente conto che se lui va al mercato a Milano compra 10 pesche con quei 10 scudi. Se va a Verona ne compra 20. E allora cosa fa? Prende la sua macchinina, va a Verona, compra 20 pesche pagandole con 10 scudi. Molto contento il negoziante di Verona che ha venduto 20 pesche. Quello che vende le pesche a Milano vuoto il negozio. Però è contento perché questo signore che oggi, sì è vero, avevo il negozio vuoto, non ho venduto nessuna pesca, però devo comprare il frigorifero. Il frigorifero mi costa 100 scudi. Caspita, però se io vado a comprarlo a Padova, un bel frigorifero fatto da Veneti, ma è più o meno bello come quello fatto da Lombardi, costa 50 scudi per me. Quindi andrà a Padova a comprare un frigorifero Veneto che costa la metà. Il Padovano non andrà più a visitare Milano perché le robe costano troppo. Ha uno stupendio di 100 leoni, tutte le cose a Milano costano il doppio. Non ci vado più. Per il Lombardo sarà convenientissimo andare in vacanza a Venezia. Oh, sono andato a Venezia, costa pochissimo. Tutto costa la metà rispetto qua a Milano. Allora il Veneto che cosa fa? Comincia a mettere dei negozi a Milano, dove vende i suoi prodotti, che costano la metà dei prodotti fatti in Lombardia. Dopo due secondi vedete che tutti i Lombardi compreranno soltanto prodotti fatti in Veneto. All'inizio sono contenti i Lombardi, la loro vita sembra più semplice, guarda che meraviglia, sto pagando di meno le cose, grazie scudo forte. Passa poco tempo e a tutti i Lombardi viene battuta una mano sulla spalla e gli dicono sei licenziato. Ma perché sono licenziato? Nessuno compra più i nostri prodotti, non c'è più nulla. Le nostre pesche rimangono lì sul mercato, i nostri frigoriferi nessuno li compra più, non li compriamo più noi né li compra nessuno in giro all'estero perché tutti comprano il frigorifero Veneto che costa la metà. E allora a quel punto il Lombardo licenziato non può più comprare nel frigorifero Lombardo né nel frigorifero Veneto e comincia a stare molto molto male. A un certo punto può alzare il ditino e dire ma sarà forse colpa della moneta che è troppo forte? Pazzo! È la corruzione! Sono le tasse! Non è quella moneta lì! Cosa pensi? La moneta è una roba neutra, non c'entra nulla! Sarà che tu sei un fannullone! Sarà che tu non lavori più bene come una volta facevi! E io dico ma come non lavoro più niente? Guarda i suoi prodotti come sono più belli! Non hai fatto innovazione! È certo che non ha fatto innovazione! È uno che ha il negozio vuoto! Che cosa innovo? Allora dall'altra parte invece questi che continuano a vendere prodotti hanno anche i soldi per poi dopo fare dei frigoriferi più belli! A questo punto si arriva a un livello dove si rinforza così tanto l'economia del Veneto che anche se paradossalmente si pareggiassero le cose il vantaggio sarebbe troppo forte perché questa è indebolita l'industria della Lombardia che viene uccisa dallo scudo troppo forte dalla disoccupazione si trova talmente in svantaggio che non ce la fa più a recuperare! E allora uno dice ma vediamo di risolverla questa situazione ma non si deve toccare la moneta! Non è possibile toccare la moneta! Sapete che cos'è la prima idea, l'ideona che viene fuori poi dopo a qualcuno? Stipendi? La metà! Bisogna recuperare competitività? Caro il mio Lombardo dimezza lo stipendio e vedrai che sarai competitivo col Veneto! E il Lombardo dice sì ma io per carità posso anche pensare di dimezzare la mia paga ma poi la mia rata del mutuo è sempre quella! Ma poi dopo il latte, il pane e così questo tipo che io devo comprare ogni giorno, i prezzi sono quelli lì, come faccio? Devi adeguarti! Vi risulta per caso che questo scenario, questa favola stranissima possa un po' assomigliare a qualcosa che forse sta succedendo anche da noi o è una cosa del tutto campata in aria. Non vi viene il sospetto che domani se la Germania uscisse dall'euro e l'Italia uscisse dall'euro, la nostra moneta, chiamiamola come vogliamo, il fiorino, il ducato, la lira è morta, non c'è più, chiamiamola come vogliamo, la nostra moneta sarebbe di valore un po' più basso rispetto all'euro e invece il marco tedesco nuovo sarebbe di valore un po' più alto rispetto all'euro. Vi sto dicendo una cosa strana, vi sto dicendo una cosa che non esiste, vi sto dicendo un'ipotesi campata per aria oppure è probabile che sarebbe così? Ecco, se pensate che è probabile che sarebbe così sappiate che quella... Vi ringrazio, vi ringrazio ma ascoltatemi, pludite dopo se pensate che avrò ragione, ascoltatemi perché è fondamentale, è la prima volta che forse da un po' di tempo a una parte vi ricordano che sono le cause del perché si sta male qua e si sta male qua, non è che si sta male in tutto il mondo, si sta male qua, non c'è la crisi mondiale, andate a Londra a vedere se sono in crisi. Andate lì. Ho stato recentemente con Rinaldi che è qua in prima fila, le macchine e le limousine si sprecano. Allora, immaginate quindi questa Germania che esce dall'euro e la sua moneta si rafforza, immaginate l'Italia che esce dall'euro e la sua moneta si indebolisce, bruttissimo verbo perché fa pensare che diventiamo più deboli, più piccoli. No, diventa più leggera la nostra moneta e diventa più pesante la loro moneta. Questa differenza, ognuno di noi può avere in mente quale potrà essere, 30%, 40%, non lo so, è quanto in questo momento la Germania ci sta rubando in termini di competitività. I suoi prodotti costeranno per tutto il mondo il 40% in più di quello che costano adesso e i nostri prodotti rispetto alla Germania costeranno esattamente della stessa proporzione in meno e se i nostri prodotti costano meno ne vendiamo di più. Se vendiamo più prodotti significa che c'è più lavoro e se c'è lavoro significa che avremo i soldi anche per comprare i prodotti importati. Chi ha perso il lavoro non compra nulla. Il potere d'acquisto di chi è licenziato è zero. Una moneta artificialmente forte porta inevitabilmente disoccupazione. Non c'è possibilità che diventi e che succeda in un altro modo. Quindi se noi in questo scenario della Lombardia e del Veneto con le monete così fatte mettiamo tutte le soluzioni che ci propongono come geniali risolutive, cosa otteniamo? Otteniamo qualcosa che non serve a niente e se quel qualcosa non serve a niente a noi probabilmente serve a qualcos'altro. Quindi se noi al Lombardo che non ha lavoro perché la sua moneta è troppo forte, artificialmente forte, ricordate gliel'abbiamo fatta alzare con la bacchetta magica che è uguale all'euro, normalmente una moneta forte è forte perché c'è tanta richiesta dei prodotti. Quindi se in un paese invece c'è poca richiesta dei prodotti allora il valore della moneta scende. In questo caso noi siamo invece esattamente come la situazione della bacchetta magica. Siamo in crisi ma abbiamo la moneta forte, è arrivato qualcuno che ci ha fatto raddoppiare il valore del nostro scudo. Allora cosa succede? Succede che noi Lombardi siamo in questa situazione, la soluzione la state intravedendo anche voi senza che ve la spieghi io, cosa dicono? Ci vuole la patrimoniale. Bisogna tassare i risparmi, bisogna alzare l'IVA. Ma vi rendete conto di quanto vi pigliano per il culo? Io sono indignato, sono indignato quando ogni volta vado a parlare in televisione o cose di questo tipo su questi temi e vi dico signori non è che dico che ci vogliono più tasse, non è che dico che ci vuole la corruzione, sono tutte cose dove bisogna lavorare tantissimo. Ma il problema è un altro. Abbiamo una moneta troppo forte e questa percentuale di moneta troppo forte è quella che pesa su tutti. Eh ma qualcuno ce la fa, ma benissimo, ma qualcuno ce la fa anche a saltare due metri, ma non è che perché qualcuno ce la fa a saltare due metri allora tutti noi dobbiamo metterci a saltare due metri e se non riusciamo a saltare due metri dobbiamo morire. E non è così. Eh ma loro sono stati più forti, loro sono stati più bravi, loro hanno barato perché tutti i trattati erano stati congegnati in modo di favorire la Germania e all'interno di questi trattati c'erano cose ben precise come il divieto di eccesso di surplus, vale a dire di esportare troppo, il divieto di sforare il debito, invece loro l'hanno infranto subito il giorno dopo, il divieto di aiuti di Stato hanno dato 300 miliardi alle loro banche che stavano per saltare tutte nel 2008 e allora loro hanno pagato 300 miliardi, hanno una banca che si chiama KFV dove hanno nascosto il 20% del debito pubblico con quella finanziano a zero i tassi, hanno creato a tavolino lo spread perché lo spread altro non è che la paura che il debito pubblico non venga rimborsato, il debito pubblico in tutto il mondo è sicuro, nessuno si pone il problema che non venga ripagato il debito americano o il debito inglese anche se possono essere in certi periodi sono stati molto più in crisi di noi, quando c'è stata la crisi dei subprime americani, gli americani erano in crisi discreta ma nessuno aveva il dubbio che qualcuno ripagasse i titoli di Stato americani, avrebbero stampato dollari e avrebbero ripagato con quello, no? Invece da noi hanno detto ah guarda c'è la Grecia facciamola fallire così diamo un po' di lezione alla gente, allora hanno fatto fallire la Grecia e far fallire la Grecia cosa significava? Significava dire con un neon grosso così attenzione che c'è qualche titolo di Stato in giro per l'Europa che è un po' poco sicuro, portate i soldi da noi che siamo invece sicuri, il risultato è che la Germania in questo momento si sta finanziando a tassi negativi, vale a dire il mondo paga per portare soldi alla Germania, con questi soldi gratis poi la Germania finanzia le sue imprese e noi vogliamo competere, abbiamo il 20% 30% di svantaggio di valuta, se noi andiamo in banca se una nostra impresa va in banca, gli fanno un bel saluto di qualsiasi tipo dicendo che non gli presteranno niente o se glielo prestano, glielo prestano a tassi che uno strozzino si vergognerebbe a praticare, dall'altra parte tassi a zero e possibilità di fare tutto. Loro, c'è stato un documento della Bundesbank che dice per rientrare dai crediti, bella patrimoniale, 10% di tutti i valori, ma di tutti e anche delle case, quelle più piccole, cosa che uno non si capisce come faccio a pagare una patrimoniale su una casa se non ha soldi? Ho comprato una casa, ho mutuo e la pago con un bagno, non lo so, se mi chiedono di dover pagare una tassa del 10% del valore gli do un abbaino, gli do l'ingresso, che cavolo vogliono? E poi dopo nello stesso documento c'è scritto in Germania la patrimoniale non andrà mai fatta perché danneggia la crescita. Ah, ma bene, ma certo, ma perché noi siamo quelli che devono essere spiumati, noi stiamo pagando tutti i crediti che la Germania ha concesso a tutta l'Europa del Sud in maniera scriteriata e ce li stanno facendo pagare senza dirci nulla. Quando noi siamo andati in fila tutti, perché noi siamo un popolo di gente sfaticata, di gente corrotta, tutti in fila ordinati a pagare la Mini Imu, tutti in fila con una formula che neanche uno, il matematico, riusciva a cavarla, tutti in fila per pagarla Mini Imu, questo popolo di corrotti, questo popolo di Lazzaroni, questo popolo di gente che non ha il coraggio delle proprie azioni. Bene, intanto per i 150 milioni che servivano per evitarci questa umiliazione, perché quella è stata un'umiliazione la Mini Imu per un italiano, ecco, quei 150 milioni non si sono trovati, ma nessuno vi ha detto che abbiamo usato 52 miliardi, 52 miliardi, non 150 milioni, 52 miliardi per i fondi salvastati che significa pagare altri stati per i crediti della Germania. Quando accendete la televisione e guardate ballare questi bei programmi, vi dicono che la Spagna ha tagliato gli stipendi, adesso va bene, la Spagna ha tagliato gli stipendi, ma non vi dicono che innanzitutto avrà anche tagliato gli stipendi, ma il 25% di disoccupazione ce l'hanno ancora e non so se abbiamo idea di cosa sia il 25% di disoccupazione, ma soprattutto non vi ricordano il piccolo particolare che noi l'estate scorsa abbiamo versato, noi intesi Europa tutta, ma soprattutto poi dopo noi, 50 miliardi per salvare le sue banche, se no erano tutti falliti. 50 miliardi in proporzione significa che noi, dato che abbiamo circa il 20% di questa spesa, abbiamo versato 10 miliardi, allora 10 miliardi per salvare le banche spagnole perché poi dopo loro potessero essere presi come bel esempio, vedi che loro seguono quello che diciamo noi e vanno bene. Voi in fila pagare la Minimu? Ma ve l'ha detto qualcuno? No, perché quando si è trattato di votare i fondi salvastati e la Lega Nord è stata l'unico partito che non ha votato, questa schifezza? Oh ma tutti eh! L'hanno votato tutti! L'hanno votato tutti! Tutti tranne uno, quindi significa che ogni tanto qualcuno che ha il coraggio di andare controcorrente, di fare il salmone si trova e quindi questo dovrebbe essere un esempio anche per tutti voi che si può anche andare contro quello che fanno tutti gli altri, alla fine poi dopo non è detto che la ragione ce l'abbiano quelli là, però quando c'è stata la votazione, perché alla fine sono tutte cose votate eh, queste infamie, eh beh, quando c'è stata la votazione per il Fiscal Compact e per il MES, quindi per questo impegno avversario a impegnare miliardi e miliardi nostri che potevano essere utilizzati per creare lavoro, per creare qualsiasi cosa utile per i nostri disoccupati, ecco, allora su tutti i giornaloni, e lì è stato veramente dove ho detto Borghi, tu devi metterti in prima persona qua perché non è più possibile così, allora in tutti i giornali non c'era una riga, l'unico che scrisse qualcosa fui io e perché lo infilai dentro in un articolo che mi avevano chiesto per un'altra cosa, altrimenti il Corriere della Sera titolava, anche Libero comunque devo dire, quindi il giornale Libero fecero due cose, però sono giornali considerati di nicchia e poi che dicono ovviamente il falso perché in realtà quello che dice vero è Repubblica, allora Repubblica titolava su Rubi, che era fondamentale, no? Il Corriere titolava sul caldo, era il 21 luglio, ma io mi preoccupo, mi sono preoccupato quel giorno lì, mi sono preoccupato, non sono mai stato un complottista, non ho mai pensato che ci fosse la congiura del silenzio per stare zitti, però io ero lì ho scritto sui social network, si scriveva, vedo moglie in prima fila può testimoniare, ero preoccupato, ma cosa stanno facendo, cosa stanno facendo, cosa stanno votando? Scrivevo, bombardavo di tutto, preparavo l'articolo sul giornale e mai avrei pensato di vedere che una cosa così fondamentale che impegnava tanti tanti miliardi nostri venisse totalmente censurata. quindi da quel momento lì ho capito che veramente eravamo in guerra e dovete preoccuparvi, ha detto giusto Salvini, dovete preoccuparvi perché sono disposti a tutto, sono disposti a mentire, sono disposti a qualsiasi cosa pur di tenere in piedi un sistema che se dovesse essere sbugiardato si capisce, lo capiscono benissimo che nel momento stesso in cui viene fuori la verità su tutto quello che è successo li vanno a prendere casa per casa, per cui devono solo sperare che tutto questo vada avanti il più possibile, gli ingenui sperano che arrivi il miracolo, chi non è ingenuo sperano poi dopo di conquistarsi sufficienti prebende per poi dopo riuscire a fuggire tranquilli in Europa e vedete che già al nostro simpatico Enrico Letta hanno già promesso il posto in Europa in modo tale da tenerlo bello salvo e bello a posto. Quindi io ho scritto questo libretto per voi in modo tale che fosse inattaccabile dal punto di vista economico e di questo ve ne accorgerete perché è evidente che se io avessi scritto una riga falsa su questo libretto istantaneamente questa riga sarebbe stata, ci sarebbero le gigantografie con le frecce dicendo Borghi dice bugie, vedete questa riga è falsa e ve lo dimostro, non le troverete perché io sono abbastanza bastardo e quindi io l'ho scritto in modo tale che non fosse attaccabile. Quindi voi sapete che tutto quello che c'è scritto è vero e la fatica è stata quella semplicemente di rendere dei concetti che sono complicati che altri studiosi molto più bravi di me come per esempio il professor Bagnai che è stato citato prima scrivono in libri quello che Matteo ogni tanto ha regalato anche a Renzi per dire così magari ti documenti un po' su cos'è il vero ma tanto lui lo sapeva a memoria sicuramente quindi l'ha fatto semplicemente per ricordargli come vanno le cose. Ecco queste sono cose scientifiche, il difficile è stato riuscire poi dopo a cercare di riportare in concetti che siano comprensibili più o meno a tutti quindi cerchiamo di capire, capirete anche leggendo perché tutto quello che vi dicono che è irreversibile non si può le carriole di monete, l'inflazione, il mutuo, le materie prime ma noi cosa facciamo? La liretta giocheranno a palla con la nostra cosa così sono bugie. Cambiare si può, cambiare si deve e aspetta a voi veramente prendere in mano il vostro futuro perché abbiamo dato sufficienti anni della nostra vita. Adesso basta! grazie 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 a tutti penso che si colga che i novanta giorni che abbiamo davanti devono essere vissuti ventiquattro ore su ventiquattro non lasciate nulla di intentato perché penso che quello che si è detto oggi sia alla portata di tanta gente che ha la mente libera e ha voglia di capire quindi grazie a tutti grazie all'interprete per la lingua dei segni mi hanno segnalato più di diecimila contatti solo sul sito internet basta euro punto org quindi diffondete il sito da domani in ogni dove prendete a piene mani e il quotidiano la padagna ringrazio aurora lossana per 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 il contributo che che sta dando anche come quotidiano usciamo di qua e cominciamo la battaglia e fra novanta giorni ci ritroviamo qua a festeggiare la vittoria di chi ha ragione grazie a tutti buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti